Siamo a CS 2014 di Las Vegas, due giorni prima dell'apertura ufficiale e già come potete vedere momento importante per vedere nuovi prodotti. Il primo di questi è un tablet appena annunciato giusto la scorsa ora, si tratta di ThinkPad 8, la nuova soluzione di Lenovo per il mercato professionale. È un tablet particolare in quanto ha un display da 8 pollici con risoluzione Full HD di 1920x1200 pixel e non 1080 come soliti trovare, abbina sistema operativo Windows 8 e una piattaforma Intel Bay Trail. La risultante è un prodotto quindi destinato a un pubblico professionale in quanto può essere interfacciato attraverso una tastiera e una docking station anche all'utilizzo in una scrivania. Bene, i componenti sono quelli tradizionali, notiamo una connessione USB di tipo 3.0. La batteria integrata è dichiarata per un'autonomia di 9 ore complessive, mentre notiamo questa cover accessoria che ha un attacco magnetico, ha una particolarità. Ripiegando, se chiudiamo, prendiamo aperto il tablet, apriamo da questa parte e immediatamente il tablet si mette in modalità fotocamera, pronto quindi a utilizzare la fotocamera posteriore per riprese in video o scatti. La disponibilità di questo prodotto sarà a partire dalla fine del mese di gennaio con un prezzo in mercato nordamericano indicato in 399 doda di tasso escluse. Non sappiamo ancora quale sarà il prezzo per il mercato italiano anche se dovrebbe venire commercializzato a breve. A presto per altre novità dal CS 2014 di Las Vegas.